Sì, mettiamo un vincolo almeno, almeno dobbiamo. Praticamente c'è questo. Non so se ne ho chiesto adesso, cioè io sono sicuro che tanti sono cagliati, gli altri sono giocati. Vabbè dai, non fa una tira, comunque è una tira 18. Si potrebbe pensare a qualche maniera di mettere anche del risotto. Questo tra l'altro come metterlo per ricordare le facce è ottimo. Non c'è la cosa, non c'è la cosa. Così ti senti finito. Questi movimenti passi li faccio io così sopra. No, 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 no.